Buonasera a tutti, eccoci pronti per il nostro consueto appuntamento di analisi del mercato azionario. Anche oggi purtroppo non ci sono stati degli spunti particolarmente interessanti perché continuano a latitare i volumi. Io credo a questo punto che il mercato, come vi avevo già anticipato anche nel video di questa mattina, stia aspettando i dati sull'inflazione in Europa che verranno pubblicati domani alle 11. Quelli credo che saranno il market mover per l'intera settimana. Noi però dobbiamo continuare a prestare molta attenzione all'andamento di mercato perché oggi, come vedremo tra poco, abbiamo toccato con precisione millimetrica la parte bassa del box di congestione escluso lo spike poco sopra area 24.000, ma tra poco lo vedremo. Vi ricordo che oggi siamo per carità solo a martedì, però sabato ci sarà una sorpresa, troverete sul canale una sorpresa, credo inaspettata, per cui chi non lo avesse ancora fatto si iscriva e spunti la campanella di notifica per ricevere gli aggiornamenti su tutti i nuovi contenuti caricati perché nel tardo pomeriggio di sabato ci sarà veramente un cadeau, direbbero i francesi. Ma vi condivido subito lo schermo e partiamo subito dall'andamento tick by tick. Vedete, il mercato oggi ha fatto un minimo a 24.275, attorno alle 10.45, adesso siamo a 24.565, purtroppo i contratti FIB scambiati non sono certo entusiasmanti, 14.432, però quello che più conta è che se andiamo a prendere un grafico daily vediamo che il minimo del box di congestione, questa congestione che ci accompagna ormai da giorni, vedete che è stato a 24.275 il 15 di novembre se ovviamente omettiamo la spike ribassista 24.060 e oggi, che c'è stata il 17 di novembre, oggi abbiamo fatto proprio 24.275. La cosa paradossale è che se chiudessimo entro le 22 sopra 24.640, la seduta di oggi e la candela che il futures disegnerebbe sarebbe addirittura un engulfing bullish, per cui sarebbe diciamo addirittura una sorpresa positiva, quello che come vi sottolineavo già in apertura però è abbastanza deludente sono i volumi in generale, vedete anche oggi abbiamo fatto solo 1.721.000.000 quasi in linea con quanto scambiato ieri e questo fa sì che purtroppo sia abbastanza difficile fare trading, me lo chiedete in molti oggi, per esempio io ho fatto solo una trentina di eseguiti, normalmente sul mercato quando scambi almeno 2 miliardi, da 2 miliardi in su io non scendo mai sotto i 50 eseguiti al giorno. Cosa c'è da aspettarsi per le prossime sedute? Come vi dicevo il mercato aspetta il dato sull'inflazione in Europa domani alle 11.00, se il dato sarà migliore delle attese, poi domattina lo rivedremo assieme ancora, sicuramente il mercato potrebbe anche riportarsi almeno nella parte alta del range, per cui raggiungere almeno 24.885, se invece dovesse essere deludente andrebbe subito a 24.060, e probabilmente nelle prossime sedute, diciamo durante questa settimana, potrebbe spingersi fino a 23.525. Oggi analizziamo pochi titoli del Futsimib, non tutto il Futsimib, vi voglio far però anche vedere qualche titolo dell'MTA, per cui è possibile impostare operatività, sono titoli che io trado abitualmente, per cui vorrei allargare un po' i vostri orizzonti quando ci sono delle situazioni che si possono sfruttare a nostro favore. Adesso vediamo i titoli di oggi partendo dai migliori e partiamo da Saipem, che è stata molto forte. Non vi nascondo che mi ha sorpreso la forza di Saipem, la spiegazione potrebbe essere ovviamente dal fatto che a inizio giornata, nella prima parte della giornata c'è stato un bel recupero del future sul petrolio, comunque il titolo ha superato il massimo di ieri che era 1,0375, a questo punto bisognerà rivedere quanto detto da me in precedenza, dovrò rivedere, perché potrebbe raggiungere il titolo il massimo di venerdì 1,0595, eventualmente 1,069 massimo del 24 di novembre, comunque il titolo sicuramente da mettere a monitor per domani. Poi, sempre tra i petroliferi, ben comprata Tenaris, ecco Tenaris diventa veramente difficile da lavorare, fortunatamente ha chiuso il gap, lasciato aperto a 16,23 senza aprirne di nuovi, perché oggi aveva aperto in gap, ma poi è andato a chiudere il 16,03, avendo fatto un minimo a 16,01. Io faccio molta fatica, non vi nascondo, a capire come si muove Tenaris, al momento il trend secondo me è un laterale sui massimi di periodo, per cui comprerei solo su debolezza e se dovesse arrivare di nuovo anche solo in area 16,77,5, a 16,81, area 16,80, probabilmente prenderei profitto perché mi sembrerebbe strano che abbia la forza addirittura di uncinare al rialzo. Ovviamente l'acquisto solo su debolezza, l'ideale, è sul trendline rialzista che è partita dai minimi del 26 di settembre, significa per domani più o meno sui 15,90, possiamo anche eventualmente sul minimo di oggi che è 16,01. Qui mi devo scusare con voi, un iscritto me lo ha fatto notare, non vi avevo detto perché non riesco neanch'io a stare dietro a tutti i dettagli, che oggi era il primo giorno nel fuzzimib di Erg, esce Atlantia e che verrà peraltro dell'estata, entra Erg. Erg è stata leggermente comprata, dico leggermente perché non è riuscita neanche a chiudere sopra la media mobile a 50, 30,19, però a questo punto dovendo molti gestori acquistare il titolo perché entra nel paniere principale, per cui se non avevano delle posizioni sicuramente qualcosa avranno sicuramente comprato o dovranno comprare. La nuova area di supporto, quest'area 29, diciamo con stop sotto 28,76, minimo del 18 ottobre, è un'area di acquisto. Poi qui è la difficoltà del mercato, io ieri sono uscito da generali, a proposito poi facciamo anche un attimo un'escursione su Campari perché Campari oggi mi è scattato lo stop profit, io sono uscito ieri, oggi mi fa questa contro candele incredibile, non è la prima volta che mi capita, ci sono abituato, io mi do delle regole e le applico, se poi ovviamente oggi fa un Elgulfi bullish dopo la rottura di ieri, come si dice alzo le mani, l'ammiro, io non sono rientrato, aspetto il titolo almeno sulla media mobile 200 o 16,31, chi ieri non si fosse stoppato, a maggior ragione dopo una seduta come quella di oggi, deve continuare a mantenere il titolo. Prima che mi dimentichi vi faccio vedere Campari, al volo tiro un po' meglio la trendline, ecco, vedete, qui io il mio stop ce l'avevo sotto 10,11, però rompe anche questa rialzista di breve, per cui io in asta finale a 10,03, sono uscito con uno stop profit, avevo peraltro il titolo in carico a 9,22. Veniamo invece adesso ai titoli peggiori, sicuramente Amplifon, sembrava volesse fare dei minimi arrotondati e riportarsi fino a 28,55, mentre oggi fa una seduta molto negativa da meno 3,25, a questo punto a maggior ragione io vi ho detto che non sarei entrato prima di 26,65, domani valuterò se aspettare magari addirittura la media mobile a 50 che è 26,28, in ogni caso sotto 26,65 io uscirei dal titolo se dovessi detenerlo. Telecom ha fatto una seduta molto particolare perché è stata forte la primissima parte della giornata, poi invece ha chiuso quasi sui minimi, in questo caso lo stop è sotto 0,21,24, possiamo concesersi 20,91, non oltre, e probabilmente torniamo a guardare il titolo a 20,41 dove c'è la media mobile a 50, l'ideale è probabilmente 0,19,95. Poi Diasorin, ancora tra i peggiori, Diasorin oggi dà un segnale abbastanza negativo, va peraltro quasi millimetricamente a testare la media mobile a 200 perché 128 è la media mobile a 200, ha fatto 128,15 di minimo, io sono sincero, a questo punto voglio vedere domani magari un test o sulla media mobile a 50, 125,9 o addirittura l'ideale sarebbe un ritorno a 123, però sarà sicuramente un titolo che terrò nella mia watch list perché mi interessa assolutamente provarlo. Per quanto riguarda invece i titoli che vi volevo far vedere dell'MTA, veniamo ai titoli forti. Allora, Identity, ha un lotto minimo però a mille, qui semplicemente l'unica spiegazione è un innalzamento di target da parte di KNT che quando da dei target molto ambiziosi non sempre ma incontra il favore del mercato per cui ve l'ho sottolineata perché rompe la resistenza statica di area 3,40 con volumi in buon aumento per cui è un titolo che io oggi non ho fatto perché ho letto tardi la notizia Price Sensitive e domani valuterò eventualmente su debolezza un ingresso. Pozzi, ve ne avevo già parlato nel recente passato, continua a essere molto forte, addirittura aveva fatto nuovo massimo storico il 22 di novembre a 1,56 oggi fa una ottima seduta con volumi anche piuttosto importanti 112.500 pezzi sinché non perde 1,33 è un titolo che bisogna continuare a mantenere per magari pochi nella nostra community dovessero detenerlo ma se io provo a tradarlo quello è anche il mio livello di stop. poi è molto interessante anche l'andamento di Tesmec che oggi è partita con volumi, vedete, molto importanti per quanto riguarda il titolo perché ha fatto quasi 10 milioni di pezzi vedete 9.896.000 la notizia è una commessa con RFI di 109 milioni in rete ferroviaria italiana però spalmati su 8 anni. ovviamente lì o leggi la notizia subito entro se no diventa molto difficile per quanto mi riguarda io ovviamente aspetterò una correzione oggi non è riuscita a chiudere sopra la forte area di resistenza per cui magari a meno che domani non rompa in maniera decisa si potrà muovere in training range tra 0,147 e 0,155 invece tra i peggiori voglio sottoporvi Fope che peraltro ha perso in realtà il 3% è un titolo che vedete ha questo rally incredibile alle spalle partita da meno di 11 ed è arrivata fino a 38,60 tra l'altro di recente a inizio novembre è un titolo che ha nel radar il nostro amico Jordan io sono sincero entrerò solo tra 27,80 27,40 anche perché c'è un lotto minimo molto impegnativo da 250 pezzi per cui quando l'ho fatta nel recente passato l'ho fatta su estrema debolezza poi Alerion anche se i volumi non sono stati incredibili perché ha fatto 10.284 pezzi voglio lo stesso tenerla in watch list per le prossime sedute perché già 35,1 può essere un primo tentativo da fare ma probabilmente io aspetterò 34,05 considerando che a 33,43 c'è la media mobile a 200 poi mondo tv perché nei commenti nel recente passato avevo visto che c'era qualche iscritto al canale che era giustamente perché sembrava il titolo voler partire entusiasta di rivederlo a prezzi più dignitosi però come vi ho già spiegato finché non finisse l'esercizio delle obbligazioni convertibili che vengono convertite in azioni con uno sconto medio tra il 9 e il 10% rispetto al prezzo corrente di mercato il titolo è destinato a soffrire altro titolo che mi avete chiesto mi sembra nella prima live essere industrial allora io ho dei warrant che eventualmente eserciterò perché nel mese di novembre ho guadagnato molto bene da domani 5,52 5,53 primo livello poi ovviamente se accelerasse al ribasso fino a 5 sarò ovviamente compratore sul titolo anche perché a dicembre si apre l'ultimo periodo di esercizio mi sembra strano dei warrant mi sembra strano che il titolo venga abbandonato così ultimo titolo che vi devo segnalare è WIT perché è già la seconda seduta consecutiva che il titolo soffre per cui domani da 16,66 in giù sarò compratore se dovesse accelerare al ribasso a me non vi nascondo fa molto piacere perché è un titolo che negli affondi ribassisti negli spike ribassisti mi ha sempre premiato spero che questa versione un po' più particolare con anche qualche titolo dell'MTA per insegnarvi sempre più società sulle quali poter fare trading possa essere stato gradito da voi noi ci sentiamo come al solito domattina prima dell'apertura del mercato diurno auguro una buona serata a tutti